Bella ragazzi qui Matt Ed eccoci oggi sfortunatamente con l'ultimo video da parte mia su questo canale Sfortunatamente, anzi per meno, spero per voi almeno un pochino Lascerò YouTube, le motivazioni sono sinceramente perché non ho più voglia di giocare Perciò neanche di registrare le partite, fare video per alla fine nessuno, perché nessuno ci segue E quindi mi sembra tempo sprecato, non ci ho sprecato abbastanza nella mia vita di tempo E perciò ho deciso di smetterla qui E perciò ho deciso di lasciare YouTube Comunque tranquilli, continueranno Jensen e Andrew a fare video Perciò godetevi loro Vi introduco velocemente la partita così non tornerò più su questo argomento Una mob di Usas Comportata mi pare Una mob veramente bella A mio parere, visto che è stata anche abbastanza sudata Devo dire Mob lasciata è presa in circa 5-6 minuti Perciò è una buona mob Ho preferito caricare questa partita perché Per non farvi un video troppo lungo Del mio addio, diciamo Eh, come ho detto Non mi sta più prendendo Non ho più motivazioni di giocare Non c'è nessun gioco che mi invoglia Mi sono stufato E perciò Fate anche molti miei amici Su PlayStation Network Possono dare conferma di quello che vi sto dicendo Non è perché non sono seguito Non siamo seguiti su YouTube Non abbiamo fama Tutte queste stronzate Perché la voglia è passata È stata una bella esperienza comunque Perché alla fine Comunque Comunque Abbiamo Un po' di scritti Non tantissimi Neanche tanti Ne abbiamo Un pochino Cento Settanta Centonovanta Attivi Ce ne saranno Quindici Venti Perciò Ringrazio prevalentemente loro Che in ogni Nostro video Ci Danno sostegno Ci invogli Ci invogli Involve Scusate Non so neanche più parlare Ci invogliano a fare video Però È finita ormai Lo so che è monotomo Però non so cosa dirvi sinceramente Perché Alla fine è tutto qui La voglia è finita Non giocano anche per la play Non faccio più niente Diciamo Ormai è un periodo Preferisco passare il mio tempo Spendere il mio tempo In altri Modi Piuttosto che stare Davanti A uno schermo A giocare Non sto Criticando nessuno Di quelli che lo fanno Perché comunque Fino a Due o tre settimane fa Lo faccio anche io E quindi Niente Ognuno la pensa come vuole Magari in futuro Potrebbe esserci Un altro mio video Però Avedo dubbio Magari Un dual Con qualche amico Però Sarà difficile Soprattutto Perché Perché Non ho neanche Gameplay buone Non c'ho niente Da mostrarvi Perciò Un motivo in più Per non Per lasciare Black Ops 2 Sinceramente Mi fa abbastanza Cagare E quindi Accendo Ogni tre o quattro giorni La play Faccio Una o due partite A FIFA E poi stacco Perciò Un quarto d'ora 20 minuti Quindi Neanche il tempo Di dire To Oggi È una buona giornata Posso giocare Mi diverto E questo Perché tanto Ogni volta che gioco Alla fine Mi incazzo Ogni volta che gioco Ormai Non ho neanche più Motivazione Non mi diverto Accendo La play Soltanto Perché Ci sono i miei amici Che mi chiedono Di Accenderla E Di andare da loro Per fare una partita Perciò È finita Raga Dai Vi auguro La buona fortuna Vi auguro Buon anno Quello che volete Il nostro cammino Si interrompe qui E che dire Ci sentiamo Alla prossima Bella Ciao 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 Grazie a tutti